Facci sognare! Buonasera! Sì, non ha colpito solo Francesca, ha colpito anche me questa fotografia, le parole sulla schiena della piccola Vira mi hanno ispirato una riflessione, nel senso che se noi vedessimo la bambina da sola ci chiederemmo chi sono i suoi genitori, dove sono, come si chiama lei, e dato che non sa parlare senza quelle scritte non sapremmo come fare per aiutarla. E questo accade un po' anche nei quadri, nel senso che a volte i pittori sono stati costretti a scrivere delle parole tra le immagini per essere sicuri di trasmettere il loro messaggio. Ad esempio, Vira mi ha fatto subito venire in mente la fornarina di Raffaello per un dettaglio che forse molti conoscono, il braccialetto con le parole Raffaele Urbinas, lì sul braccio. Che è la firma dell'artista, no? Esatto, ma non la firma sul quadro, è la firma sulla donna. Cioè, Raffaello sta dicendo, questa è la mia amata e chiunque la vede deve saperlo. Una sorta di avvertimento. Pensa oggi, se avessi fatto una cosa del genere... Sarebbe un po' problematico. E la fornarina avrebbe fatto un post su Instagram dicendo, Raffaello, anche meno. Però l'intenzione di Raffaello è stata capita subito, anche nei secoli. Tanto che poi nell'Ottocento, quando il pittore italiano Francesco Gandolfi dipinse Raffaello e la fornarina, cosa ha messo sul braccio della donna? Di nuovo lo stesso braccialetto, vedi? Era diventato una sorta di carta d'identità della ragazza che la rendeva immediatamente riconoscibile. Altre parole scritte su un quadro famosissimo invece sono servite a identificare lo stato d'animo dell'artista. Mi riferisco alla prima versione dell'urlo di Munch, il cui titolo originario è Scrik, parola quasi onomatopeica. Qui, nell'angolo in alto a sinistra, c'è una scritta matita di cui non si accorge quasi nessuno e dice Can kun vere malet afengal man. Io anche se me ne fossi accorto non capisco una parola. Che cosa vuol dire? Può essere stato dipinto solo da un pazzo. E in effetti noi sappiamo che Munch ha avuto diversi problemi psichiatrici nella sua vita. Qui probabilmente ci sta dicendo ho fatto questo quadro in un momento di follia, cosa che ci racconta anche... Perché mi piacerebbe ogni tanto impazzire così? Cioè, impazzire e fare quel quadro? Sì, e infatti c'è una pagina del suo diario in cui racconta questa follia che si trasforma in creatività. È proprio un'opera straordinariamente diversa dai suoi lavori iniziali. Ve ne ho portato uno come esempio vedendo i due dipinti. Uno dopo l'altro si stenta a credere quasi che siano dello stesso autore. Tra l'altro, permettimi Massimo di mostrarti questa chicca davvero strepitosa perché alcuni studiosi hanno identificato il posto esatto che Munch ha dipinto nell'urlo. È Eckeberg nei dintorni di Oslo. Questo per dire che è vero che il quadro è stato ispirato da un momento di follia ma c'è comunque un attaccamento alla realtà. Tornando invece alle nostre scritte, altre parole egoriferite si trovano nel dipinto di Caravaggio Davide e Golia. Piccola premessa, lo sappiamo tutti, Caravaggio era un tipo abbastanza violento tanto che durante una partita di pallacorda l'antenato del tennis uccise un suo rivale per una semplice questione di punteggi. Poi dicevano di John McEnroe, cioè questo è molto peggio. Esatto, e poi Caravaggio però fu condannato alla decapitazione che pensate poteva essere eseguita da chiunque lo riconoscesse per strada. Quindi è abbastanza ansiogeno il clima. Viveva una vita difficile. Esatto, infatti poi cercò di ottenere la grazia da Papa Paolo V proprio con questo dipinto che non a caso ritrae Golia decapitato con le sembianze dello stesso Caravaggio. Ma a noi interessa, a proposito di scritte, le lettere che vediamo incise sulla lama H-A-S-O-S ovvero Humilitas Occidit Superbiam. È una citazione di Sant'Agostino che significa l'umiltà uccide la superbia. E poi Caravaggio effettivamente ottenne la grazia dal Papa ma morì prima di venirlo a sapere e di poter tirare un ultimo sospiro di sollievo. Se tutte le scritte visto finora hanno una spiegazione l'ultima che vi ho portato questa sera rimane un mistero perché a Palazzo Vecchio, a Firenze, c'è un affresco del Vasari che ritrae la battaglia di Marciano della Chiana e la cosa curiosa è che se zoomiamo su una piccolissima bandiera verde che sta laggiù in fondo vediamo le parole cerca-trova. Cosa vogliono dire? Non si sa. Alcuni dicono potrebbe essere un'esortazione a trovare appunto la famosa battaglia di Anghiari dipinta da Leonardo che sarebbe nascosta da qualche parte in qualche intercapedine di Palazzo Vecchio altri dicono no, cerca-trova è un anagramma per Torre Vacca la torre di Palazzo Vecchio in realtà non lo sappiamo perché alcune scritte nell'arte non vogliono fare chiarezza ma vogliono al contrario alimentare il mistero perché alla fine è anche il mistero che rende l'arte interessante rendendola intrigante e curiosa. Grazie, grazie Giacomo Quante cose abbiamo imparato? Bellissimo, grazie Sempre meravigliose le sue lezioni Grazie a voi Grazie a Giacomo E ora tocca a te